A poche ore dal Golden Globe es in nero contro la violenza sulle donne e la disuguaglianza economica e lavorativa, nuove accuse di molestie sessuali si sono abbattute su un'icona dell'entertainment. Il Daily Mail Online ha pubblicato un articolo in cui sostiene che Stanley avrebbe avuto comportamenti inappropriati nei confronti di diverse giovani infermiere assunte per prendersi cura di lui. L'avvocato dell'ex presidente e direttore editoriale di Marvel Comics, Tom Lallas, ha smentito categoricamente i fatti riportati dal sito, ma la notizia ha suscitato grande clamore. Secondo quanto scrive il Daily Mail Online, le accuse a Stanley sono state mosse dalla società di assistenza privata che ha seguito il celebre fumettista fino a dicembre 2017. Il sito non ha reso noto il nome per non creare problemi alle donne coinvolte, ma si tratterebbe di un'azienda che si occupa di celebrità e personaggi di alto profilo. Stando all'articolo, il creatore di tanti eroi Marvel avrebbe usufruito di un'assistenza H2477, pagando 1000 dollari al giorno. Il Daily Mail Online ha ricostruito i fatti citando una non meglio precisata fonte a conoscenza della situazione. Il misterioso testimone ha dichiarato che il fumettista si sarebbe lasciato andare. La gola profonda è scesa nei dettagli, raccontando che l'ex boss di Marvel Comics avrebbe avuto ripetutamente comportamenti inappropriati nei confronti del personale femminile assunto per misurargli la pressione, controllare che prenda le medicine e portargli da bere e da mangiare. La fonte del Daily Mail ha aggiunto che la reazione della società di assistenza privata avrebbe portato la vicenda all'attenzione dei media. Un portavoce dell'azienda ha confermato che la titolare avrebbe ricevuto diverse denunci dalle sue dipendenti e si sarebbe lamentata direttamente con il fumettista. A conferma che qualcosa è accaduto tra la società di assistenza privata e Stanley, il Daily Mail Online riporta che il 20 dicembre 2017 l'avvocato del protagonista di tanti camei nei film e nelle serie Marvel ha inviato all'azienda una lettera per notificare la cessazione della collaborazione. Come riporta il sito, in tale documento, il legale avrebbe accusato di fatto uno o più individui di avere diffamato il fumettista. Dopo che la vicenda è diventata di dominio pubblico, Tom Lallas ha rilasciato una dichiarazione al Daily Mail Online, respingendo con sdegno ogni addebito nei confronti del suo cliente e parlando apertamente di un tentativo di estorsione. Il legale dell'ex boss di Marvel Comics, rimasto vedovo a luglio 2017 dopo 70 anni di matrimonio, ha concluso affermando che il suo assistito non si piegherà alle richieste, perché non ha nulla da nascondere. Secondo quanto scrive il Daily Mail Online, dalla parte del papà di Spider-Man e di tanti altri eroi Marvel si è schierata la nuova società di assistenza che lo segue. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che il fumettista è educato, gentile e rispettoso e che prendersi cura di lui è un privilegio. Il sito ha riportato anche la dichiarazione di una fonte vicina all'artista, secondo cui l'attacco a Stanley è stato orchestrato per ottenere dei soldi. Non è stato solo Stanley a essere chiamato in causa nell'articolo del Daily Mail Online. Il sito ha raccolto accuse anche contro la guardia del corpo e per molti versi braccio destro del fumettista, Max Anderson, all'anagrafe, Mac Anderson. La fonte che ha raccontato l'intera vicenda ha rivelato che il personale femminile sarebbe stato spaventato dall'uomo e che quest'ultimo avrebbe assistito in modo complice ai comportamenti inappropriati del suo capo. Secondo il sito, a rendere più grave tutta la faccenda, ci sarebbe il fatto che Max Anderson avrebbe un passato criminale non di poco conto. Nel 2002, l'uomo avrebbe scontato un anno 501 carcere e 36 mesi di libertà vigilata per aver picchiato la moglie. Poi, nel 2010 avrebbe colpito il figlio con una cintura, lo avrebbe preso per il collo e sbattuto a terra, venendo condannato ad altri 36 mesi di libertà vigilata, a pagare una multa e a frequentare dei corsi per la gestione della rabbia e per imparare a essere un buon genitore. La tesi che emerge tra le righe è che se stanno le sceglie di accordare fiducia a un uomo come Max Anderson, forse non è la persona specchiata che dichiara di essere. D'altra parte, è vero anche che il fumettista può avere scelto Max Anderson per dargli una seconda possibilità, dopo che si era veduto. Ma non si tratta altro che di teorie e speculazioni. Quello che è certo è che il Daily Mail ha innescato una nuova potenziale bomba e che le conseguenze non mancheranno. Restate sintonizzati per conoscere tutti gli aggiornamenti.